e buongiorno giriamo fronte luce allora nel mio piccolo ultimamente innanzitutto benvenuti sul mio canale ma nel mio piccolo ultimamente siccome era un po di tempo che lo volevo fare ho approfittato per piano piano un pezzettino alla volta a comprare per ora due lampade di quelle smart siccome mi avevano un po di tempo fa è già un anno che ce l'ho regalato a lecco lecco dot di come cavolo si chiama quello di alexa ero curioso di provare queste funzioni accendi la luce spegni questo quindi ho comprato giusto un paio di prese smart perché comunque mi servivano perché io prima di uscire di casa ho tante ciabatte dove ci sono attaccate tante cose e hanno tutte queste lucine accese quindi anche per i trasformatori che rimangono comunque in tensione allora prima di uscire di casa ad esempio mi andavo a cucciare lì nell'angolo staccavo la spina poi c'è un po di casino quella lì uguale tutto acceso allora ho preso una presa smart che prende corrente da qua dietro che controlla quella ciabatta un'altra che ora siamo in inverno che controlla la stufetta poi ho preso questa lampadina qua quella della cucina per ora sto aspettando che mi arrivano altre due lampadine che una la metterò qui nel corridoio e una nella camera da letto poi per il bagno non lo so perché il bagno c'è una luce che è collegata che quando io accendo l'interruttore vi faccio vedere tanto vi faccio vedere alexa accendi luce soggiorno alexa spegni stufetta ad esempio alexa spegni forno vedete che si è spenta lì la ciabatta un'altra controlla qui qua dietro computer che io in pratica qua in bagno dovrei fare di nuovo non fate caso a bagno che è bruttissimo ma quando io accendo qua si accende sia questa che quella quindi devo un attimino vedere di o rifare i fili e poi mettere anche un'altra lampadina smartly però vi posso dire che è una comodità non solo per il comando vocale perché tutto è nato perché io quando entro in casa da lì c'è un interruttore per accendere la luce qua questa io accendo questa luce entro a casa però devo andare in salotto quindi ora mettiamo che alex alexa accendi luce soggiorno allora io entro così se spengo qua resto al buio ok perché quando arrivo comunque ancora è buio quindi devo lasciare acceso qua arrivare qui accendevo la luce ora va bene alexa accendi luce soggiorno alexa accendi luce soggiorno accendevo questa luce poi tornavo indietro e spegnevo ok quindi questa già questa ammenata perché io comunque quando arrivo mi spoglio qua butto tutto lì prima cosa che faccio vado in cucina e mangio perché ho fame quindi solo cioè era diventato noioso comunque arrivavo in casa mi levavo tutto accendevo qui tornavo indietro spegnevo quella sì che poi ci rivai dici vabbè ma cosa ci vuole lo so però era diventata una routine fastidiosa ok lo stessa cosa quando uscivo di casa che dovevo staccare quella presa andavo a spegnere quella ciabatta che comunque ce l'ha l'interruttore generale ce l'ha lì dietro di fianco poi venivo qua accendevo la stufetta allora mi sono un pochino automatizzato e devo dire che cioè è comodo ok è comodo per queste cose no quando entri in casa da fare come vi ho spiegato adesso dall'altro canto poi cioè diventa un po noioso perché comunque ogni volta alexa bla 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 no quindi cioè potete comunque lo stesso usare l'interruttore normalmente l'importante che poi se volete che la luce continui a funzionare sotto il controllo diciamo domottico cioè sotto alexa la dovete lasciare in tensione accesa perché poi lei che spegnerà la lampadina ok perché sulla lampada pratica c'è un interruttore wifi non è altro che quello quindi niente adesso poi aspetto che mi arriveranno altre due lampadine che ne metterò una qui nel corridoio e una di là perché l'avevo comprate da temo ma il problema che non loro secondo me hanno messo l'insezione sbagliata perché comunque c'era scritto che erano wifi e tutto effettivamente le lampadine quando lo montate siccome le devi prima configurare con la sua app dal cellulare funzionavano ma funzionavano però in bluetooth e anche alexa me la vedeva perché mi riconosceva che avevo installato delle lampadine perché poi l'applicazione che usate proprietaria diciamo del prodotto perché ogni ogni tipo infatti io vi consiglio se volete fare la casa diciamo controllata sotto assistente virtuale perché può essere anche google no cercate di comprare tutto della stessa marca così usate un'applicazione sola in questo caso io c'è una presa lì che è di una marca diversa invece le altre cose sono easy home mi sembra una roba del genere c'è l'app sul cellulare che si chiama un po intanto torniamo qua sul canale ok perché non si fa l'applicazione che viene usata ad esempio che sto usando per la maggiore si chiama ho sbagliato si chiama smart life che è questa qui con la casetta blu con questa applicazione tante cose lampadine prese più o meno funzionano quindi controllate comunque quando le quando le comprate raccio freddo alexa accendi stufetta e quindi controllate magari se potete comprate tutto dalla stessa serie perché poi come funziona voi installate l'applicazione quando avvitate la lampadina la lampadina lampeggia come quelle cose bluetooth diciamo lampeggia poi dall'app fai aggiungi prodotto smart ora non mi ricordo che cavolo c'è scritto gli dovete dire lampadina che ha una lampadina allora poi inizia a cercarla quando la trova poi vi chiede la password del wifi per accoppiarla col wifi di casa e una volta che ne avete fatto una le altre sono più veloci perché la password del wifi la mette già dalla prima lampadina che avete installato se la ricorda quindi non fate altro che aggiungi nuova lampadina addirittura mi sembra che come aprite l'app già ve la vede la lampadina ok poi per il controllo con alexa non urlo tanto forte perché sono di là si attiva tre volte si accende dovete dargli un nome quindi io questa l'ho chiamata luce soggiorno quella presa lì gli ho dato il nome di stufetta per ora poi posso sempre cambiarlo la presa qua dietro l'ho chiamata presa soggiorno lì invece siccome c'è comunque il forno la frigitrice a dare il forno a microonde l'ho chiamata forno ok senza presa solo forno e quindi poi dovete rinominarle dall'applicazione e poi andate in alexa e cioè sempre dall'applicazione c'è una sezione che comunque vi fa fare il passaggio di accoppiare l'applicazione easy home con alexa una volta che l'avete accoppiata automaticamente come installate le cose alexa poi ve lo dice ho trovato una lampadina tutto e le inserisce nella sua lista in più alexa potete anche installare sul telefonino e potete anche dal cellulare controllarlo infatti la cosa bella che io se apro alexa sul cellulare c'ho sia l'eco come prodotto che è quello che uso in casa che quello cioè mi riconosce lo smartphone cioè mi 2 ora non so se qua riesco a farvelo vedere se io apro alexa un po di luce se io vado qui nelle app e apro l'applicazione di alexa se vedete qua vedete ora c'è forno stufetta luce cucina luce soggiorno no poi se scorro giù c'è vabbè presa soggiorno poi c'è alexa online su questo telefono e poi non ho capito perché che cavolo sta facendo qua ok qui c'è qualcosa che non riesco a capire dirett sul letto dieci sul letto cavolo è sto a fare a perché c'era una canzone sì perché prima si è messa a sparare musica per i cavoli suoi comunque questo sarebbe l'eco ora c'è questo non so come chiuderlo comunque c'è alexa su questo telefono e poi c'è l'eco in pratica voi avete dispositivi qua poi volendoli potete anche accoppiare le cose che avete in casa le lampadine le prese ai gruppi tipo questo qui è corridoio cucina soggiorno se io schiaccio soggiorno poi posso infilare ci sono telecamere autoparlanti e comunque posso informazioni sui gruppi quasi faccio modifica penso vedete che posso inserire forno luce cioè nei gruppi posso anche inserire quella dei gruppi non ho capito bene forse serve per farle riconoscere meglio devo ancora un po studiarci comunque più o meno la cosa che mi interessa è che io avendola qui praticamente da fuori casa anche se sono collegato in 4g non c'è problema perché posso accendere lo stesso e spegnere le cose la cosa comoda qual è che quando io vengo da fuori al mattino visto che fa freddo in questi giorni cosa faccio prima di entrare in casa magari quei cinque minuti prima di arrivare a casa accendo la stufetta che comunque mi fa un po di caldo peccato che il mio condizionatore d'aria di là non è wifi se no avrei inserito anche lui e l'avrei potuto controllare di qua quindi è comodo su tante cose ora qua mi dice che il forno non lo dà come è spento è una stufetta quindi il forno dovrebbe essere spento si è spento perché lo vedo di qua e niente questo è quanto il video che sto girando è in 360 quindi se voi con la manina andate sullo schermo del video potete scorrere e girarvi intorno per la casa non c'è niente di bello da guardare perché c'è un casino devo mettere a posto ma con la cosa che in questi giorni ho avuto un po di problemi ad andare a dormire alla mattina infatti ora devo ancora andare a dormire sono ancora in piedi faccio un po fatica ad addormentarmi ultimamente quando torno da lavorare queste sono purtroppo per me le conseguenze di fare questo lavoro qua di notte che adesso lo faccio da 14 anni più che altro perché quando arrivo a casa mangio e quindi poi c'ho la pancia piena non riesco andare a dormire va bene questo è quanto io quando si spegne qua mi si spegne lo scarma ok ecco lo posso riattivare non so se sono riuscito a a riprendere bene poi comunque poi quando scarico il video lo controllo bene poi vi aggiornerò quando metterò altre lampadine comunque niente di che l'avete visto come funziona è una cosa carina alexa spegni luce soggiorno è un po dormiente alexa accendi luce soggiorno è una cosa carina comunque ditemi cosa ne pensate voi di queste cose perché poi ci sono anche le telecamere le telecamere sono un po più inquietanti sotto il controllo di alexa non lo so infatti l'eco non so si chiama eco e basta quello che ho di là comunque c'è lo schermino e c'è la telecamerina sopra come gli smartphone meno male che c'è il tastino perché io quella l'ho subito coperta non è che mi garba tanto ok bene ci vediamo al prossimo video ciao ciao